è scesa malissima salutiamo anche Don Giro Ballerano un giovane sacerdote che credo che sia la sua prima rappresentazione come sacerdote fino all'anno scorso era ancora di angolo un figlio della nostra terra sacerdote giovane che quindi potrà portare avanti la tradizione nei prossimi decenni non bella Alla prossima. Un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere sugli essi. Il suo aspetto era come la fulgure ed il suo vestito bianco come la neve. Le guardie per lo spavento caddero a terra tramortite. Il sepolcro non rimase a lungo solitario. Nel giorno dopo il sabato, Maria Maddalena si recolse il sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Quindi si recò dal discepolo che Gesù più amava e gli dice... in inglese, io sono andato. Il giorno dopo il sabato, Maria Maddalena si recoglie la pietra prima della mattina, quando era una stranata, e si vede che la pietra è stata riuscita dalla pietra. Sì, poi la mandalena si incontrerebbe in metà strada con San Giovanni. grande impressione produsse Giovanni la comunicazione che aveva vive le pende giacenti il sudario che era stato sul capo di Gesù non con le pende ma era molto a parte in un altro luogo ciò bastò a convincerlo che la salva non era stata rubata come aveva lasciato supporre Maria Mattalina torno subito in città per consultarsi la salva di Maria Mattalina è ritornata verso gli apostoli di quanto era accaduto che Gesù vive e che fu visto da lei non le prestarono fiducia, non l'autorità di donna ma l'autorità di uomo doveva testimoniare la venuta risurrezione di Gesù. Il giorno, il primo della settimana, ed essendo giusto le porte dove erano i discepoli del paura dei giudei, venne Gesù a parte agli ubici, mentre essi erano a mensa, stette in mezzo a loro e disse Pace a voi, perché siete giurbati e perché sono volubili al vostro cuore? Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, Gesù mostrò loro le mani e i piedi e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Quando l'amore veniva l'anno, il primo giorno della settimana, la porta dove i discepoli erano, era aperta per la fear di i giudici, Gesù si è riuscita a livello mentre erano a dormire e ha detto tra loro e ha detto, Pace, be with you. L'amore stupiti e stavano con la fear, credendo che erano a vincere un ghost. La stessa che dice in inglese, è un altro pallone. E i discepoli sono riusciti per vedere il Signore. E i nostri sottotitoli sono riusciti per vedere Gesù. La grande gloria è di sì, den Herren, del Sì del Gesù, del Sì del Gesù, del Sì del Gesù e del Sì del Gesù. Cristo è risorto, gioiscono ai nostri cuori per vedere Gesù, vincitore della morte, Signore del Criato, portatore di pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso si ricompone il corteo con la statua di Gesù Cristo per fare ritorno al scuro della propria chiesa, il parroco con Don Gino Balerano e i fedeli a Santa Maria Magdalena e altri amici presso la conglia di Santa Maria della Pietà. Il parroco con i turisti, la Buona Pasqua, da parte dei commercianti, da parte della parrocchia, della pubblicazione, da parte dell'amministrazione comunale, da parte da parte. Mi ricordo che la Pasqua a Casamiccio continua con i lunedì in albis. Infatti domattina dalla Basilica di Santa Maria Magdalena parte una secolare proiezione penitenziale che si rinnova da alcuni fatti luposi per l'isola, la Pesca del 1656 e il Covena del 1837. La posizione parte da Santa Maria Magdalena alle 9 e arriverà a piedi nella chiesa di Santa Restituta, nella buona piazza nel vicino comune di Tantomeno. Qui sarà celebrata la Santa Messa. la Pesca del 1656 e il Covena del 1837. La Pesca del 1656 e il Covena del 1837.